musica musica yeah yo Ale come sono i nuovi non morti? bellissimi meravigliosi spettacolari focaccine un intero caschetto di pelo che ti pu dire cazzo yeah ricordi perché tocchi? cosa tocchi? merda ti capisco si può dire cazzo focaccine non sono successe queste cose tagliate la parte sul caschetto di pelo ricordo ricordo nooo la prossima puntata si concentrerà sulla settima del legionista startes ovvero sia i magli imperiali e il loro primarca le manrasse merda focaccine un pirolino in silicone focaccine peo 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 l'ho ucciso e a sua volta biorno si assicura che le manrasse e comunque smettila di dare cance ai piccioni però anche tu ti puo dire cazzo nooo merda ma io devo tornare a casa domani devo andare a lavoro nooo nooo non